Domani anche in Italia si celebra la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada programmata dall'ONU nel 2005, un momento di ricordo per chi ha perso la vita sulle strade come utente o in servizio come i 373 agenti della Polstrada, ma anche l'occasione per riflettere sulle problematiche legate alla sicurezza stradale e cambiare le cattive abitudini degli automobilisti. In Italia in prima linea c'è la polizia stradale che quest'anno celebra il settantesimo anniversario della sua Costituzione. Quello degli incidenti stradali per i costi in termini di vite umane, sociali ed economici è uno dei principali problemi dei paesi dell'Unione Europea che ha avviato nel 2010 il quarto programma di azione sulla sicurezza stradale che ha come obiettivo la riduzione del 50% delle vittime di incidenti stradali. I numeri elaborati dalla Polstrada dicono che nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti con lesioni a persone che hanno provocato 3.283 vittime e 249.175 feriti. Nel 2001 i decessi erano stati 7.096. Il trend indica un calo costante anche se nel 2015 c'è stato un più 1,4% rispetto al 2014. In provincia di Nuoro nel 2016 si sono registrati 1.396 incidenti, 24 mortali, 936 con lesioni. Le persone decedute sono state 27, quelle ferite 722. Nel primo semestre del 2017 invece gli incidenti sono stati 919, dei quali 316 con lesioni e 9 mortali con 11 persone decedute e 462 ferite. Tra i comportamenti errati più frequenti la Polstrada segnala la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. Le violazioni più sanzionate sono invece l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l'uso del telefono cellulare alla guida. Per prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada, la Polstrada di Nuoro ha svolto nel 2016 192 servizi di telelaser e autovelox e 58 servizi denominati stragi del sabato sera finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica. Quest'anno i servizi di telelaser e autovelox sono già stati 169, 48 quelli denominati stragi del sabato sera. Inoltre in collaborazione con il servizio sanitario del corpo sono stati attuati 10 servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebrezza alcolica o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.